Santo importante Sant'Antonio, nato a Lisbona nel 1195 e morto a Padova dopo 36 anni, proprio il 13 di giugno. Celebrato così alle porte dell'estate, Sant'Antonio è ritenuto il protettore dei poveri, delle donne incinte, degli oppressi, dei viaggiatori, degli affamati, dei fidanzati, degli animali e dei pescatori. Si tratta, come si può notare, di un santo invocato molto spesso, anche perché, secondo la tradizione, può ottenere 13 miracoli quotidiani, il che di questi tempi di crisi e di incertezze non è poco. Amante del silenzio e della preghiera, si ritirò a soli 15 anni nell'abbazia di San Vincenzo, alla periferia di Lisbona, poi scelse di abbracciare con slancio missionario l'ideale francescano. Viaggiò molto, vivendo prima in Portogallo, quindi in Italia, dove incontrò proprio San Francesco d'Assisi e poi in Francia. Antonio, infatti, fu incaricato dell'insegnamento di teologia e inviato dallo stesso San Francesco a contrastare in Francia la diffusione del movimento dei Catari, che la Chiesa di Roma giudicava eretico. Fu poi trasferito a Bologna e quindi a Padova. Dopo la sua morte fu rapidamente canonizzato e il suo culto è tra i più diffusi del cattolicesimo. Le immagini si riferiscono alla Chiesa di Sant'Antonio di Lanciano e a un culto profondo, esteso non solo al quartiere, ma tutta la città è al comprensorio. Questi i panicelli benedetti e tante le iniziative del periodo di festa, con l'apertura del campanile a cura del CAI di Lanciano, mostre fotografiche, la possibilità di visitare le statue e lignee del secentesco presepe napoletano dell'Antinori, la solenne processione in onore del Santo. Un Santo amato e venerato, rappresentato come un frate giovane che tiene in braccio Gesù Bambino e un giglio in mano. Il giglio rappresenta la sua purezza e la lotta contro il male. Gesù Bambino ricorda una visione che Antonio ebbe nella sua breve vita. La giovinezza si collega con il personaggio ideale puro, buono e che accoglie proprio tutti. E allora, buon Sant'Antonio. Grazie a tutti.